La Teramo Ambiente ha partecipato alla bellissima manifestazione di Ecomondo. Intanto di che cosa si tratta e soprattutto qual è stata la finalità di questa visita? Ecomondo è una fiera che si tiene a Rimini per quanto riguarda tutte le attività ambientali, quindi dalle attrezzature alle stazioni informatizzate, all'economia circolare, ed è una delle più importanti d'Europa. Diciamo che Teramo Ambiente ha partecipato, è andata a Ecomondo, ma diciamo che una cosa importante è che abbiamo partecipato a un concorso per quanto riguarda il progetto dei RAE e ci siamo piazzati benissimo. Benissimo che cosa vuol dire? Diciamo che la signora di Ferdinando ha seguito sia il progetto di Giulianova, cioè di Ecotedi, cioè la nostra partecipata, sia come Teramo Ambiente, ed Ecotedi è entrata nel gruppo di testa dove ha preso un premio. Noi stavamo proprio sul limite per prendere per la nostra categoria, perché noi siamo una città più grande e concorrevamo in un'altra categoria. Ha avuto modo in questa occasione di vedere anche le ultime novità in tema di raccolta di rifiuti? Allora, l'ingegner Josue, che è la parte tecnica, ha accompagnato il sindaco, l'assessore, il presidente della Commissione Ambiente a vedere soprattutto le stazioni informatizzate, cioè quelle stazioni in cui il cittadino con una tesserina porta i rifiuti e servono per la raccolta puntuale. Poi uno alla fine ha il cosiddetto estratto conto di quello che ha recuperato e quello che ha conferito e sulla base di quello la tariffa puntuale determina uno scondo sulla parte variabile della Tari. Questo è previsto dalla normativa dal prossimo anno e quindi di conseguenza ci stiamo organizzando per fornire questo servizio. Praticamente è il principio, chi più inquina più paga. Quindi se il cittadino fa raccolta differenziata, risparmiamo nei conferimenti e quindi è giusto che abbia un piccolo premio. Quindi anche queste stazioni verranno installate nella città di Teramo? Si può già prevedere quante saranno e dove verranno installate? Il servizio di igiene urbana, la parte tecnica, sta predisponendo un progetto che verrà presentato al comune di Teramo. Poi dopo c'è un iter di valutazione che è importantissimo, presumo anche con i cittadini, perché questo è una variazione, anzi un miglioramento del servizio attuale. Il porta a porta dunque non scomparirà anche quando verranno inserite queste stazioni. Il porta a porta è la base per poter fare la tariffa puntuale. Perché faccio un esempio, anche se avessimo delle stazioni informatizzate in ogni luogo, ci sono per esempio le persone anziane che chiaramente non possono andare alle stazioni informatizzate, quindi c'è sempre il porta a porta. Però viene rimodulato in funzione di una marea di parametri che poi i tecnici hanno individuato e sono la base per il progetto. Grazie. Grazie.